Siamo con Salvatore Piccolo, portierone del Meligucco. Oggi il pareggio è giusto? Secondo me sì, intanto buonasera a tutti. Visto l'andamento della partita secondo me è giusto il pareggio perché noi potevamo fare il gol, lo potevano fare pure loro però alla fine è giusto il pareggio. Contro, permettimi, una signora squadra... Possiamo dire che la capolista si ferma a Meligucco? Si, si ferma a Meligucco dopo dieci vittorie consecutive e un attacco di un'altra categoria. Sono una macchina di golle però noi oggi siamo riusciti a fermarla e per noi essere una matricola è una soddisfazione enorme. Bentrovato a Mester Maio, allenatore del Meligucco. Buonasera. Ciao Maurizio. Allora Maurizio, dicevamo con Salvatore Piccolo che il Meligucco ferma la capolista. Diciamo di sì, è un buon punto per noi contro sicuramente una grande squadra. Abbiamo fatto una bella partita, un grazie ai ragazzi perché sono stati secondo me fantastici. Abbiamo preparato bene la partita tutta la settimana e penso che per noi sia un punto super meritato. Abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni, ripeto, giocando contro secondo me è una delle squadre più forti di questo campionato. Siamo con Alessandro Caridi, tecnico della Stilese. Alessandro, oggi due punti persi, un punto guadagnato fuori casa. Come l'hai vista tu questa partita? No, secondo me sono due punti persi perché comunque le occasioni nidde le abbiamo avuto noi. Surtutto nel primo tempo, una volta lui Martinez ha tu per tutto il portiere e un altro dove l'ha mancato per poco. Però ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti, va bene così. Alla fine è un undicesimo risultato utile, quindi andiamo avanti per la nostra strada. Non è successo niente. Merito a Mary Cook che è riuscito a contrastare comunque le nostre attacche. È un po' più di cattivere nella parte della Stilese, forse si poteva anche vincere.